qualche maniera di farvi capire che differenza c'è giocare all'otto, giocare al grattevinci rispetto a giocare alle scommesse calcistiche. Per seguire questi video purtroppo dovreste aver seguito i video precedenti. Allora quello che mi interessa soprattutto è che uno abbiate capito che esistono tre tipi di calcolo delle probabilità e questo l'ho spiegato nel mio secondo video, video numero due, come si calcola la probabilità. In tre secondi ve lo spiego nel caso di una scommessa di tipo sportivo la probabilità è una probabilità soggettiva, una probabilità che do io in base alle conoscenze. Invece per quanto riguarda giochi di sorte, l'estrazione per esempio all'otto, la probabilità di beccare quella è una probabilità che io posso matematicamente calcolare. Chiaramente con calcoli un po' diversi, un po' più complessi dal semplice calcolo di con che probabilità io ho di estrarre una carta di picche da un mazzo di 40 carte, le carte di picche sono 10, le carte sono 40, 10 quarantesimi, ma sono probabilità che io posso calcolare senza nessun problema. Quindi prima di tutto dovete seguire meglio questo video oppure se siete riusciti a seguire quello che ho detto in poche parole, è importante per capire questa differenza. Seconda cosa importante è la speranza matematica. Anche qui ho fatto due video sulla speranza matematica in cui dico le stesse cose, sono solo calibrate in maniera diversa. C'è un video sulla speranza matematica che dura 35 minuti e sono un pochino più precisa nel parlare e uno in cui sono un pochino più più spedita e dura un po' meno. Se avete meno tempo seguite quello che dura di meno, il secondo che ho fatto il 5 bis. Detto velocementissimamente la speranza matematica che cosa vi calcola? Vi calcola quello che voi in media vincereste o perdereste o se la speranza matematica è nulla vuol dire che in media in media vincete zero immaginando di ripetere quel gioco per tantissime volte, quante tantissime. Più lo fate più il vostro quella che è la vostra media di rendita o perdita dovrebbe avvicinarsi a quel valore. Se la speranza matematica è zero vuol dire che se voi avete giocato per mille volte teoricamente ognuna delle mille volte in media avreste vinto zero. Zero per mille zero vuol dire che quel gioco vi ha fruttato zero euro. Se la speranza matematica è un euro vuol dire che voi in media sulle mille volte avete vinto mil uno. Questo media vuol dire uno vuol dire la media rimetica e vi ricordo che la media rimetica non vuol dire che sempre vincete uno. La media rimetica vuol dire che magari una volta avete vinto tre, l'altra volta avete perso uno, tre più o meno uno fa due giocando due volte, due fratto due fa uno. Ma questa media è così se solo se avete ripetuto quel gioco tantissime volte. La speranza matematica ha quel valore, al valore di una media nel caso in cui il gioco è ripetuto tantissime volte. Allora io innanzitutto voglio precisare che questi mie video non sono fatti per potervi spingere al gioco, anzi vi dico subito una cosa che quelli che sono giochi puramente di sorte tipo il superenalotto, tipo il grattevinci, hanno sicuramente delle speranze matematiche negative. Quindi questo vuol dire che l'unica strategia per poter sicuramente vincere è non giocate. Perché se voi ripetete questo gioco tante volte la vostra speranza matematica è negativa e quindi vuol dire che andrete solamente a perdere. Qualcuno di voi a questo punto vi dirà ma qualcuno vince. Certo ma quel qualcuno che vince non è uno, una persona che ha usato delle strategie. Quel qualcuno che ha vinto magari può aver giocato solo quella volta lì. Non c'è nessuna differenza tra la persona che sistematicamente si va a giocare 50.000 ennuple a settimana rispetto a quella persona che ne gioca una. La probabilità di vincere sia di uno che dell'altro è pressoché la stessa siccome è talmente bassa che giocare una ennupla per vincere al superenalotto, giocarne 50, giocarne 500, più o meno hanno le due persone hanno la stessa probabilità. Vince chi ha culo, punto. E il culo quindi se uno deve aver culo gioca una volta sola, non gioca 3000 volte. Idem per il gratte vinci. Però rifarò un video su queste cose. Diverso invece il discorso sulle scommesse legate a per esempio al calcio, al tennis, le scommesse sportive o comunque ad eventi. Io potrei paragonare le scommesse di tipo sportivo un po' come chi gioca al al fa trading online per esempio perché lì non è proprio solo legato alla sorte. Il fatto di vincere o perdere non è solo legato alla sorte ma può essere legato a delle conoscenze che sono per esempio di tipo calcistico. Aliento saluta, questo è il mio aliento che è quello che ogni tanto sentite piangere perché è noioso. Allora non è solo legato al, non è il gioco che è legato al tiro di un dado dove la probabilità è una probabilità di tipo matematico che voi potete calcolare in maniera precisa. Ecco perché vi ho detto bisognerebbe seguire il primo video dove vi parlo di calcolo della probabilità nei vari casi. Nel caso delle scommesse di tipo sportivo le probabilità sono soggettive quindi le probabilità con cui una società di scommesse vi quota la vittoria e la sconfitta al pareggio in una certa partita è una probabilità di tipo soggettivo. Quindi voi alzate o diminuite, voi avete delle probabilità che vi pagano, cioè vi pagano in quella scommessa, vi pagano secondo delle probabilità date da quella società e quelle probabilità rispetto alle vostre potrebbero anche essere diverse. Voi potreste valutare un evento sportivo in maniera diversa da quella che è la probabilità data dalla società. Quindi io vi farò un video in cui vi insegnerò il prossimo video che faccio a premesso da adesso in poi mi sono prefissa la cosa di fare video non più grandi di un quarto d'ora infatti adesso questo lo smetto, lo finisco e il prossimo che vi faccio sarà un video in cui io vi insegnerò, vi farò vedere come un'agenzia di scommesse valuta, passa dalle probabilità soggettive che ha dato lui alle quote o meglio anzi voi siccome quando scommettete vedete le quote vi faccio vedere come dalle quote potete capire con che probabilità quella società ha dato la vittoria, la sconfitta, il pareggio in un certo evento ok e vi dirò secondo me bisognerebbe scommettere nel momento in cui per quell'evento lasciate stare quello che il vostro cuore io tengo il Napoli e voglio scommettere il Napoli vincente lasciatelo perdere per un attimo sarebbe opportuno sempre giocare secondo le vostre conoscenze quello che voi reputate come probabilità un pochino più alta rispetto quella che ha dato l'agenzia di scommesse questo non vuol dire giocare sull'evento più probabile vuol dire giocare sull'evento che voi ripetete un pochino più probabile rispetto quello che ha dato l'agenzia delle scommesse voglio dire l'agenzia delle scommesse ha dato quell'evento 0,4 come probabilità 4 decimi cioè come avere in un urna 10 palline e la probabilità di estrarne una delle quattro fortunate magari delle quattro che sono stellate invece di essere nere quindi la probabilità 0,4 vuol dire una probabilità meno di un mezzo e ora è una probabilità alta quando siamo sopra lo 0,5 una probabilità bassa quando siamo tra 0 e 0,5 0,2 ovviamente una probabilità bassa 0,8 è una probabilità alta vi invito a vedere il primo video in cui parlo di probabilità e vi dico che la probabilità è un valore che va da 0,1 spesso si esprime come percentuale però per varie ragioni sarebbe sempre meglio esprimerla come numero numero con la virgola anche perché se dovete calcolare un evento composto da due eventi o si avvera se succede questo e l'altro bisogna moltiplicare le probabilità fare tipo 0,5 per 0,5 e viene 0,25 25 per cento se fate 50 per 50 ho paura che fa che 0,5 vuol dire il 50 per cento ma dire 50 per cento vuol dire 0,5 spesso invece si sbaglia perché si fa 50 per 50 50 per 50 cosa fa 2500 2500 per cento fa un po schifo ok quindi è sempre meglio mettere le probabilità come numeri da 0 1 sarebbe l'ideale allora vi stavo dicendo sarebbe meglio quindi che seguite il video che in cui vi dico che cos'è la probabilità anche se è una cosa molto semplice ed è meglio appunto esprimerla come numero da 0 1 vi stavo dicendo se voi notate che quell'agenzia di scommesse vi ha dato la probabilità di un certo evento come 0,3 cioè sarebbe equiparabile a un'urna che contiene 10 palline e la probabilità di estrarne una delle tre fortunate quelle magari che sono le uniche tre che sono stellate secondo voi quell'evento è comunque meno probabile rispetto all'opposto magari una partita dove c'è leggermente squilibrio e quindi che vinca la squadra b è meno meno probabile rispetto al fatto che vinca la squadra di serie a ma l'agenzia delle scommesse vi ha dato la probabilità che vinca la squadra b con una probabilità di 0,3 secondo voi invece secondo le vostre conoscenze calcistiche tennistiche la probabilità è un filino più alta secondo voi comunque la squadra b è sfavorita ma non 0,3 secondo voi è un pochino più alta la probabilità una probabilità di tipo soggettivo lo reputate un pochino più vicino al fisti fisti al 0,5 secondo voi la reputate 0,5 0,4 allora è lì che dovete giocare allora nei prossimi video vi spiegherò bene tutto andrò con ordine nel prossimo inizierò a dirvi che secondo me il gioco sulla se noi dobbiamo cercare di guadagnarci cercare di guadagnare qualcosa sugli eventi sportivi sulle scommesse degli eventi sportivi innanzitutto bisognerebbe giocare sempre prefissandosi la stessa speranza matematica perché a differenza del lancio del dado l'evento sportivo cambia una volta gioco su una partita una gioco a volta sull'altra non è come tirare il dado tante volte ma secondo me secondo una mia teoria se si gioca sempre con la stessa speranza matematica è un po' come tirare il dado tante volte quindi farò un video in cui secondo vi spiego quella che è la mia teoria nella testa ma il prossimo anzi quello che vado a girare subito appena chiudo questo è un video in cui appunto vi faccio vedere come dalle quote si passa alle probabilità ok allora questo video appunto introduttivo vi ho detto appunto che differenza c'è tra un gioco di sorte dove la probabilità è matematica da calcolare e un gioco in cui invece è la probabilità è soggettiva probabilità di una di una partita probabilità anche di guadagnare o non guadagnare a seconda di compro non compro le cripto anche lì se non sapete niente è la fortuna e non vi conviene investire tanto vi conviene farlo come gioco come come divertimento investendoci poco ovvio che gli analisti quelli che conoscono le finanze invece operano un pochino come noi magari potremmo fare conoscendo tutto di calcio sulle scommezze sportive ok allora seguite il prossimo video questo appunto un video solo introduttivo in cui vi ho un attimino detto per seguire i prossimi dovreste sapere queste cose vi ho fatto un attimino ripassare che cos'è la speranza matematica vi ho detto che c'è una grossa differenza tra giocare al super enalo 8 a rispetto alle prossime video come io valuto come una società sportiva è una società di scommesse mi ha valutato le probabilità conoscendo le quote mettete like al mio canale continuatemi a seguire così almeno avete le notifiche di quando mi viene ho tempo di potervi registrare queste cose